Maria come segno di salvezza e di speranza. Tutto pronto nella Basilica Pontificia di Santa Croce per celebrare la festa dell'Immacolata per il secondo anno consecutivo senza la tradizionale processione a causa dell'emergenza sanitaria. La venerata immagine dell'Immacolata è già esposta in Basilica come l'anno scorso su un'apposita struttura che per l'occasione utilizza il tradizionale scivolo del carro trionfale ed è circondata da tutti i puttini con i simboli mariani. Il bozzetto e la realizzazione della struttura sono opera di Riccardo Lamberti. Dopo la preparazione con la novena serale La Buonanotte a Maria domani alle 13 la messa per i portatori con l'atto solenne dell'affidamento della città alla Madonna alle ore 14. Un appuntamento imperdibile per i fedeli per assistere fino a due anni fa alla tradizionale girata del carro dalla navata laterale a quella centrale. Ma le restrizioni non fermano la fede dei torresi devoti alla Vergine Maria, un legame indissolubile con l'Immacolata e quest'anno ricorrono i 160 anni del voto. Diventare uomini e donne di speranza, nelle parole di Don Giosuè Lombardo il messaggio ai torresi. Capita proprio addirittura in questo anno nel quale noi ricordiamo i 160 anni del voto dei torresi. Certo è un momento particolarissimo dove noi dobbiamo necessariamente attenerci alle disposizioni sia del governo che dei nostri vescovi. Non è la scelta del parroco. Penso che questo sia chiaro per tutti. Sarei ben lieto. Anzi, avevamo previsto di solennizzare in modo particolare quest'anno del voto. Ma non mancherà l'omaggio alla Madonna. Sia da un punto di vista tecnico, pratico, per come abbiamo preparato la Basilica, c'è un percorso autonomo rispetto all'aula liturgica dove celebriamo le messe. Noi cominciamo con la messa delle ore 13 del giorno 7. Confluisce in quella messa tutto il cammino che già abbiamo vissuto della novena solenne, della preghiera serale della buonanotte a Maria. Ma iniziamo le celebrazioni dell'Immacolata con questa messa delle 13 con la presenza dei soli portatori in Basilica perché insomma non c'è spazio a sufficienza per tutti e alle 14 all'ora tradizionale faremo un atto solenne di affidamento della città all'Immacolata. E poi comincia tutto il pomeriggio di preghiera con la novena serale delle 18 e 30, la preghiera della buonanotte a Maria e poi c'è la tradizionale scala santa, i canti tradizionali del popolo e poi la messa di mezzanotte con la quale apriremo l'adorazione notturna fino alla prima messa delle 4 del mattino. Speriamo tutti in tempi migliori, proprio perché speriamo in tempi migliori il trono su cui è posta l'immagine dell'Immacolata. Quest'anno si ispira a un'espressione molto bella di una preghiera di Papa Francesco nel mese di maggio ultimo scorso. Lui invocava Maria come segno di salvezza e di speranza. L'Immacolata ci prepara anche a celebrare la solennità del Natale. Ecco, nella nostra festa dell'Immacolata si realizza proprio quell'antico detto dei padri della Chiesa per Maria a Gesù. Maria è una via, è la mamma che ci porta a Gesù e che lo genera continuamente dentro di noi, nella nostra vita, nella vita delle nostre famiglie, nei bisogni dei più bisognosi e di quelli che stanno attraversando momento di prova, di difficoltà, sia per la salute fisica, per la mancanza di lavoro, tanti perché vivono nell'aggressività e nella discordia. La speranza cristiana non è tanto l'ottimismo. Ecco, io sono un ottimista, cerco di vedere sempre il lato buono della vita, il lato buono delle persone. No, la speranza cristiana non è l'ottimismo, è la certezza che in questa storia, anche martoriata, Dio interviene. Forse in questo momento c'è qualche nube che copre il sole, ma la speranza ci dice che al di là del sole, delle nubi, il sole continua a splendere e ritornerà a splendere. Allora questo è un po' l'augurio, la preghiera che faccio ai credenti, ma anche ai non credenti della nostra città. L'augurio è questo, di diventare sempre uomini e donne di speranza, quella speranza che ci fa vedere il positivo nella vita delle persone e anche in questa pandemia che speriamo ci lasci presto. E allora auguri, buon cammino nel segno dell'Immacolata Madre di Gesù e Mamma Nostra. Grazie.